Cari amici, cari figlioli, siate certi di noi, poiché nessuno tra noi vaccinerà. Voi siate uniti, uniti, uniti e sopportate le vostre debolette. Questi presenti, lottando e migliorando come uomini e come nostri cari amici. Il nostro mondo per voi cari non è facile capirci. Questo è naturale, ma con l'affetto della fiducia potrete ugualmente stare fino ai nostri cuori aperti a voi e comprenderti di più. Un abbraccio fatto di caldo petto e di pura amicizia dal vostro SIGIR. Grazie per la visione!